Ciao a tutti da Alstro Duratore, eccomi con un grande Antonio Desiderio! Ciao a tutti! Allora, un'anticipazione per quello che tu fai e farei a breve? Sarà un gran galà al Teatro di Adam Weiss in Spagna, un grande spettacolo di gala con le progratine di Cristian Cellini. Io ti ringrazio e un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono! Ciao a tutti, ci vediamo presto! Ciao!